La settima volta che attraverso lo stretto di Gipilterra è sempre emozionante davanti a noi l'Africa per fortuna con la corrente a favore l'acqua a 20 gradi la temperatura dell'aria a 18.7 c'è sempre tanto traffico navale nello stretto come se il mondo è contro te e tu non sai perché lo so me l'ho rinvole la moto vedetta, la barocchina ci ha appena intimato di virare, stavamo avvicinandoci troppo a costa si mi sento accanto a te, virando abbiamo evitato un incidente diplomatico contro vento, risolverò magari poco o niente ma ci sarò e questo è l'importante acqua sarà che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento alle mie spalle Cariffa, l'ultimo avamposto dello stretto e ora l'oceano contro vento acqua sarà che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento alle mie spalle Noore Questo anche alla bene Escriviti a tutti